Pinerolo oggi vanta un primato. La prima bimba del 2015 è nata all'ospedale Agnelli a mezzanotte in punto. Sul cartellino rosa, attaccato alla culla, le infermiere del nido hanno scritto 00. La neonata si chiama Isra, pesa 2 kg e 60 g, è la seconda genita di una coppia di tunisini che abitano a Cavour. La bimba è nata all'ospedale di Pinerolo a che ora? Alle 00.00 del primo gennaio del 2015. Una bimba nata benissimo, ha pianto subito, la mamma l'ha subito attaccata al seno, una bella bimba. Chiediamo alla dottoressa come sta? Stanno bene, sia la mamma che la bambina, sono in camera insieme. E la prima volta che a Pinerolo nasce una bambina a mezzanotte? Non lo so io, sinceramente. Forse è la prima volta, sì. Mezzanotte, proprio a mezzanotte sì. Lei ha più esperienza. Quando è che era entrata in ospedale? È arrivata ieri sera, è arrivata in travaglio in serata, era un secondo bambino e poi ha partorito immediatamente. Quanto pesa la bambina? Pesa 2,850 grammi. E la sua bimba si chiama? Esra. Esra. Il papà? Monji. E l'altra sorella? Melek. Siete a Pinerolo da quanto tempo? A Cavour. A Cavour da quanto tempo? 8 anni. 8 anni a Cavour. Sono lietissimo di condividere questo momento di gioia che chiaramente quando nasce un bambino per noi è sempre una cosa molto positiva e ancora più a maggior ragione, visto che abbiamo questa specie di primato, uno dei record dei nuovi nati del 2015. Ripeto, quando c'è un nuovo nato è sempre una cosa positiva, è sempre un grosso augurio per tutti e una grossa speranza insomma per un bambino nuovo che arriva al mondo. Grazie.